ciao dall'italia ciao da casa uiv buon sabato 15 aprile 2023 e buongiorno buongiorno perché perché sono le 11.45 sono le 11.47 e ancora mattina riprendiamo la tradizione ma rido perché sorrido perché sto leggendo i commenti che stanno arrivando adesso quello di juanjo per esempio buenos dias a todo el mundo buongiorno a tutti e questo questo messaggio ci aiuta ad entrare nel tema della della diretta che è poi quello del titolo buenos dias a todo el mundo che non è buongiorno a tutto il mondo beh io potrei dire buongiorno a tutto il mondo perché c'è la spagna perché c'è il regno unito però buongiorno a tutti ne parleremo dopo ciao chris che dice buongiorno da una londra nuvolosa e fredduccia bravo chris parliamo del tempo non perché non abbiamo altre cose di cui parlare ma perché è fondamentale parlare del tempo e allora ti dico che il cielo qua ho fatto una foto proprio dieci minuti fa il cielo è un po' nuvoloso ma ho inquadrato il rettangolo più nuvoloso forse del cielo qua sopra sopra di me è molto luminoso anche se dalla foto non sembra e viva il cielo di Lonate Pozzolo va bene entriamo nel tema della diretta prima di tutto ti chiedo ti ho stupito ti ho stupito per questa diretta tu sei stupito aggettivo sei stupito o stupita ti ho stupito io ho stupito chi te a proposito della differenza tra italiano e spagnolo ho stupito qualcuno non ha qualcuno ho stupito qualcuno ho stupito quanko no tu ti sei stupito per questa diretta pronominale stupirsi io stupisco una persona se faccio qualcosa che genera sorpresa in quella persona sorprendere stupire lo stupore lo 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 stupore la sorpresa oppure pronominale stupirsi io mi stupisco di qualcosa o di qualcuno per una determinata azione per un determinato comportamento per un determinato fatto io mi stupisco tu ti stupisci lui lei si stupisce noi ci stupiamo voi vi stupite loro si stupiscono io mi sono stupito o stupita mi sono stupito ti sei stupito per questa diretta no perché l'avevo preannunciata avevo preannunciato la diretta quindi non ti sei stupito o stupita magari ti sei stupito o ti sei stupita del fatto che poi io non abbia avuto nessun contrattempo e saluto anche io uco e saluto katrin che può partecipare alle dirette perché questo è un orario buono e ciao anche alla all'argentina e a patricia qui invece è sorto un giorno quasi estivo molto bene molto bene non abbiamo tempo di parlare del tempo voglio parlare di un commento che è arrivato però qua voglio fare una premessa in questo caso non è inutile come tutte le premesse la premessa è che per me i commenti sono fondamentali per me i commenti sono fondamentali in tutti i sensi per me per me nel senso di secondo me a mio parere a mio avviso avviso per me ma per me complemento di vantaggio sono fondamentali per me perché io ho il vantaggio di capire attraverso i commenti che cosa è meglio chiarire su che cosa io devo insistere e poi i commenti spero che i commenti siano un momento fondamentale anche per te per fare pratica di lingua italiana senza paure qua non ci sono i voti qua non c'è il più bravo il meno bravo non ci sono dobbiamo liberarci dai traumi della scuola dobbiamo vivere questo momento in maniera più adulta e dobbiamo anche se non è facile liberarci dai traumi della scuola scusa per i miei errori scuso ho sbagliato ma per carità vive i commenti è meraviglioso vive il commento di jesus alberto penso dal venezuela ma non sono sicuro jesus alberto ha scritto ciao roberto è interessante sapere che passato prossimo il passato remoto nell'italiano sono tutto l'opposto o il contrario dello spagnolo meraviglioso meraviglioso mi è piaciuto molto il candore con cui jesus alberto ha scritto questo commento e ha condiviso la sua meraviglia il suo stupore ma se io ti dico stupore che cosa ti viene in mente non voglio il significato l'ho chiesto anche prima su patreon e guanjo ha scritto associo lo stupore alla sorpresa ma nella mia mente vale solo per me ha detto guanjo è sempre una sorpresa deludente quindi quando guanjo prova stupore c'è delusione in verità non è così ma guanjo ha detto che vale solo per lui lo stupore è la meraviglioso qualcosa che ti incanta certo c'è la sorpresa non ti aspettavi di vedere qualcosa di così bello lo vedi e ti stupisci per quella cosa il candore è l'innocenza come quella di un bambino e io proprio ho notato il candore l'innocenza con cui jesus alberto ha manifestato il suo stupore l'innocenza con cui ha espresso questo sentimento io associo il candore ai bambini alla purezza anche alla neve il candore della della neve che rimanda a tutte le immagini di purezza incontaminata il candore diventa fastidioso ma non è il caso di jesus alberto ovviamente quando qualcuno con faccia tosta e senza pudore senza vergogna si presenta tranquillo innocente sorridente e magari prima ha fatto qualcosa di cui dovrebbe vergognarsi non se ne vergogna e fa come se non fosse successo niente e io posso dire ma guarda quella persona ma il candore di quella persona è irritante e qua non c'è niente di di puro e di meraviglioso di innocente caro jesus alberto ti do una notizia che magari ti stupirà l'italiano e lo spagnolo non sono uguali l'italiano e lo spagnolo non sono uguali nel commento di jesus alberto l'ho scritto grazie mille voglio fare un applauso a jesus alberto grazie 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 nella risposta ho scritto che c'è il peccato originale in questo commento il confronto il tentativo di confronto tra l'italiano e lo spagnolo ma certo che non è la stessa cosa l'italiano e lo spagnolo sono simili ma non sono uguali quindi soprattutto se la madrelingua è lo spagnolo non bisogna prima di tutto non bisogna stupirsi se ci sono differenze cioè l'idea è che siccome la mia madrelingua è lo spagnolo allora la normalità quasi sicuramente in italiano troverò le stesse cose ed ecco che quando trovo qualcosa di diverso o di opposto allora mi stupisco ma no ma è la normalità poi ci possono essere dei casi rari in cui davvero c'è la stessa parola la stessa frase ma sono casi rari ma sempre comunque nel momento in cui si fa il confronto con la propria madrelingua si esce dall'immersione della lingua italiana dobbiamo cercare di capire quale tipo di esperienza noi vogliamo vivere nell'apprendimento della lingua italiana e nella comunicazione in lingua italiana io penso che questo stupore non ci sia in una persona di madrelingua cinese dice oh ma guarda un po' in italiano il passato prossimo è diverso dal cinese è una trappola questa ricerca di similitudini di uguaglianze tra due lingue è una trappola pericolosa da evitare sempre soprattutto se parliamo dell'italiano e dello spagnolo ne abbiamo già parlato tante volte io non sono dell'idea che lo spagnolo non sia da studiare se si vuole imparare l'italiano adesso qua parlo di chi non è di madrelingua spagnola mi ricordo Gülsün ha parlato di questo dice ho abbandonato lo spagnolo perché era un ostacolo per l'apprendimento dell'italiano no secondo me no perché possono stare insieme però bisogna tenerle separate tenere queste due lingue separate lontanissime sono due mondi diversissimi bisogna considerarli come due mondi diversissimi mi sbaglio adesso apriamo la discussione perché qua io non ho la verità rivelata questo è il mio punto di vista voglio sapere se secondo te ha senso quello che ho detto oppure no lo chiedo a chi è di madrelingua spagnola ma non solo la confusione soprattutto per chi è di madrelingua spagnola ci sta tutta va bene in una fase iniziale è normale e va benissimo e va benissimo ma è l'idea di fondo non dobbiamo cercare similitudini non dobbiamo cercare aiuto nella nostra madrelingua in generale ma soprattutto se la madrelingua lo spagnolo perché quell'aiuto non ci sarà al contrario ci saranno deviazioni pericolose dal punto di vista fonetico della pronuncia ma anche proprio grammaticale poi se ma senza davvero senza nessuna provocazione se invece ci si accontenta di comunicare in un itagnolo allora va benissimo va benissimo così ma non sarà nemmeno necessario impegnarsi nello studio della della lingua italiana la stessa cosa vale all'opposto per una persona di madrelingua italiana che studia lo spagnolo evidentemente la stessa identica cosa se invece vogliamo vivere un'esperienza di apprendimento di comunicazione in italiano un'esperienza autentica e più interessante secondo me bisogna fare questo sforzo questo sforzo di non di non ricorrere di non ricorrere ad aiuti che non ci saranno in ogni caso da parte della nostra madrelingua adesso leggo i commenti intanto catherine ci informa che ad hamburgo c'è un po un po di un po di sole in una classe sono fondamentali le domande degli studenti è proprio così nella diretta di questa sera partiremo da una domanda da due domande dalla stessa domanda fatta da due amiche diverse una domanda che ci fa ritornare alla diretta di ieri mattina quindi consentono al professore di capire se la sua spiegazione è riuscita o meno esattamente oppure consentono di capire che cosa non è stato spiegato che cosa interessa maggiormente allo studente infatti la radice latina di candore fa riferimento al colore bianco certamente qua ritorniamo al candore candore è una parola moribonda ne abbiamo già parlato in un video di due anni fa non è usata esiste anche l'aggettivo candido candido con l'accento sulla candido sempre con lo stesso significato allora ci saluta ioanna da roma ottimo ciao ioanna un conto è andare in italia per qualche giorno a cercare di capirsi non c'è bisogno di studiare niente la comprensione per uno spagnolo con un po' di buona volontà è garantita soprattutto se si parla lentamente se ci si aiuta con i gesti non c'è problema per chi studia lo spagnolo adesso parlo di un italiano è meraviglioso sedersi in classe e capire molto quasi tutto già dalla lezione 1 e la stessa cosa vale per chi è di madrelingua spagnola e mi ascolta adesso molto probabilmente anche chi non ha mai studiato l'italiano capisce tutto e se poi c'è un po' di aiuto al posto di capisce io dico intende tutto la comprensione è favorita ma io non direi intende intendere in italiano direi capire userei il verbo capire però per chi è di madrelingua spagnola è facile capire molto dall'inizio la meravigliosa complessità aumenta quando poi si cerca di fare un salto in avanti uno scatto che secondo me è molto più che possibile se però facciamo lo sforzo di non cercare aiuto nella madrelingua così come non si deve mai fare con nessuna madrelingua ma ripeto adesso mi rivolgo a chi non è di madrelingua italiana e non è di madrelingua spagnola è bellissimo studiare tutte e due le lingue e non ci sono problemi non ci sono conflitti ci può essere un po' più di confusione ma che si risolve comunque un conto è andare in Italia per qualche giorno e cercare di capirsi e un altro è parlare l'italiano qua conoscere lo spagnolo può diventare un ostacolo oppure può essere è una condizione non è un ostacolo è una condizione che che aiuta ma sì che che aiuta perché è come una gara di 100 metri partire da 50 metri però poi ci sono altri 50 metri da fare e ecco sono tutti da correre questa è la mia è la mia idea ma ripeto mi ha incantato mi ha incantato questo commento che è proprio bello e mi è piaciuta l'innocenza l'innocenza nel senso più alto e puro come dico sempre io infantile ma infantile è usato spesso in senso negativo ma per me invece è solo un complimento l'innocenza di un bambino con cui Jesús Alberto ha detto questa cosa e Jesús Alberto segue commenta i video grazie da tanto tempo da tanti mesi ti voglio dare questa notizia l'italiano e lo spagnolo non sono uguali fattene una ragione fattene una ragione adesso leggo un po' di commenti e poi ci salutiamo perché UIV non si ferma mai e quindi dovremo prepararci alla prossima alla prossima diretta quella di questa sera e poi ci sarà il podcast e poi ci sarà il diario di bordo e poi e poi e poi Katrin per me il problema non si pone perché non c'è remoto in tedesco bravissima Katrin ottimo da quello che vedo una possibile fonte di confusione per chi è di madrelingua tedesca riguarda il passato prossimo e l'imperfetto c'è la tendenza ad usare l'imperfetto a volte laddove in italiano ci vuole il passato prossimo ma va bene ottimo il problema non si pone per quanto riguarda il passato remoto o forse si pone nel momento in cui si vuole usare il passato remoto in italiano vuoi usare il passato remoto in italiano concordo appieno dice Yoko è importante tenere separate due lingue simili ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare certo perché poi questi movimenti della mente del cervello sono involontari possiamo dire almeno che le difficoltà di parlare l'italiano sono diverse tra spagnoli e anglofoni sì secondo quello che dico io Chris partiamo male se parliamo di difficoltà non ci sono difficoltà non dobbiamo partire dalla parola difficoltà la parola difficoltà genera difficoltà dobbiamo vivere l'esperienza dell'apprendimento e della comunicazione in italiano nel modo più candido e immacolato senza macchia possibile non contaminato da traduzioni in altre lingue e non contaminato dall'uso di traduttori automatici da intelligenze o deficienze artificiali dobbiamo viverla in maniera candida e pura dobbiamo viverla partendo dall'ascolto in italiano e dobbiamo viverla dobbiamo vivere questa esperienza usando le parole italiane che sappiamo creando automatismi in italiano cercando di collegare parole che suonino bene in italiano e non che suonino bene nella propria madrelingua questo è il tema poi ripeto in questo percorso di apprendimento va bene tutto ma cercare similitudini analogie e uguaglianze ci porta fuori strada questo è il mio pensiero esattamente le sfide mi piace molto di più la sfida di parlare italiano è diversa un esempio se uno spagnolo sente la frase voglio sincerarmi capisce istintivamente una cosa che non ha niente a che fare con il suo reale significato questo non succederà a un tedesco per esempio ti ringrazio per la partecipazione ci vediamo questa sera un caro saluto ciao 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 ciao